però stamattina durante le video lezioni il bastardo è venuto a giocare con me scusa quindi non ho capito non c'è no non c'è adesso metto a posto il secondo schermo linki la live sul mio sul mio discord per favore no anzi lo faccio io ciao ragazzi ciao antofigo14 benvenuti in live ciao ragazzi siamo in live live per meridiana live tranquilla ciao sbrifan benvenuto in live ciao ragazzi benvenuti live tranquilla live diventente iniziamo con i soliti un attimo ragazzi iniziamo con i soliti le solite partitozze un po siamo con un po le partitozze a caso in giro poi chi vuole giocare followarsi lo facciamo poi ma iniziamo a trovare qualche partita di riscaldamento ok ora il ciuffo il ciuffo è andato a posto c'è un freddo alla testa che manco mi nonna durante l'inverno naruto entro e c'era naruto sotto quella kakashi io sono 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 non lo so sono strabiliato sono ed è entrato sasuke peraltro oddio mio narcos ciao benvenuto narcos benvenuti in live peraltro per quanto naruto mi sia piaciuto comunque vederlo e comunque ho avuto delle esperienze con naruto non sono mai riuscito non sono mai riuscito a finirlo e l'unico modo con cui lo finisco c'è l'unico modo con io e l'italiano cazzo oggi siamo veramente una merda l'unico modo che ho avuto per finirlo è stato leggeri manga boruto allora boruto mi hanno detto che è molto bello però non 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 so cosa dirvi ragazzi peraltro una tasca in reactor e non ho laggato il pink mi sa chi è citta tu riccardo vuoi dire qualcosa no solamente che mi sto divertendo a far fuori non morti ah ok sta giocando a dark souls spoiler perché la sua vita è triste gioca a dark souls ragazzi la live di dark souls ce l'avremo stasera che vi è piaciuta tanto e la ripropongo perché tanto ho visto che c'erava eravate in tanti ieri sera quindi va bene stanno ama hanno l'effettato tutti siamo sono solamente ma salve se posso venire su disco certo ragazzi tutti quelli che vogliono giocare con me possono venire su discord oppure se volete giocare con me ma non potete usare discord non è un problema no Naruto era da tutt'altra parte bravo Antofigo che vai punto esclamativo Naruto bello ma favorito Naruto con il potere di Kurama certo tutti vogliono ok ok trastiamo il rosso allora mi sposti oh scusami si si ti sposto subito ah ma siete in due eccovi qua ciao Antofigo si è unito al discord bravissimo Antofigo ti sei unito al discord ah era vero io pensavo che fosse ah no niente abbiamo ucciso Naruto e abbiamo vinto qualcuno di voi vuole giocare ma no guarda io sono entrato qua per pelare patate ah per pelare patate va benissimo discord non mi entra ma com'è possibile sbrifan no la live ti da va a me mi va a me la live va a proprio mezzo secondo di scatto mezzo no io lo sto guardando dal secondo io ah ok no pensavo che stesse scattando allora vi mando il codice sul discord ragazzi vi mando mi mando il codice su generale il problema è solo uno quale io non se io vado a vedere generale il discord per crash alla lobby what vabbè allora ve lo dico a voce vabbè lo scrivo no me lo scrivo su un foglio di carta e poi vado su a mongas cosa sbrifan che ho sentito un plink ice dom grazie per il follow grazie per il follow mi tiene un posto please si si non c'è nessuno ho messo privata vi sto aspettando ve lo scrivo nella chat di twitch allora il codice se non riuscite a entrare non ci ha fatto non ci ha fatto no mi sa per ok un secondo cattivo dei hack chat privata in che senso chat privata sbrifan no la chat privata non la metto perché mi piace anche parlare con quelli che non così adesso vi ho mandato il codice ok sto entrando io sto entrando buonasera buonasera qualcun altro deve entrare io ho messo pubblica aspetteremo tantissimo ci faremo un gioco di carte nel mentre hai messo due impostori certo che ho messo due impostori bravo ricci vediamo un po' cosa devo modificare discussion time aumenta un pochettino voting time va bene play speed kymet vision va bene no la basso un attimo impostor vision si va bene kill countdown aumentiamo mettiamo 35 kill distance medium comunque il mio amico che doveva andare in live su fornite non è più andato in live dove è eccolo ma salve donate don fa bietto benvenuto in live non mi è arrivato il codice su discord come non ti è arrivato il codice su discord allora non è un problema ctrl c ctrl v ora ti dovrebbe essere arrivato in privato nel privato dai ragazzi lì chi ci entri un attimo su among us solamente per fare il numero per far arrivare gente ci serve almeno lo sai che iniziano a entrare quando ci sono quattro persone le persone come te oh dio ah te è crashato si al massimo troviamo un'altra no siamo in troppo pochi aspettiamo un attimo allora facciamo così adios briefan entrato benissimo allora siamo in tre dai posso giocare certo certo don fabietto che puoi giocare certo che puoi giocare don fabietto non c'è da chiedere sei followato sei su sei sul discord puoi entrare certo che puoi entrare il codice ti è già arrivato lo devo vabbè te lo boom ciak mandato questo è il codice dai che entrano persone sbriefan sei veramente una persona simpaticissima e non sto scherzando aspetta sei entrato don sei entrato eccolo 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 vai vai buono partiamo partiamo chi è che ha scritto vabbè fantastico siamo pronti ad andare pronti a partire mad bay è la risposta tutto sono in amor mi sposti adesso ti sposto carissimo no non è questo è questo qua eccolo qua fabietto fabietto mi senti o non puoi parlare no ok benissimo benvenuto carissimo benvenuto oh electrical non ho visto qualcuno tu non ho visto nessuno allora è white allora è white anche io lo penso pippo noiziello io vitterei white sas il bianco sì sì il bianco per me è il bianco non lo so ma per me puzza il bianco ma tantissimo mi sussa tantissimo il bianco io skiperei perché io non ho visto nessuno no ma loro dicono loro mi han detto allora non so se shadow può parlare con noi ma non penso però ci han detto che allora vabbè vediamo teoricamente peppe posso giocare certo peppe che puoi giocare inizia ad entrare su discord se vuoi allora il giallo mi sussa tantissimo però il roso fa sempre il giro da navigation eh tanto sono due gli impostori quindi un attimo peppe aspetta che siamo in partita e non me lo ricordo neanche se vieni su discord peppe c'è già il codice nella chat quindi ce l'hai già merda io devo andare nella tana per topi elettrico eh si sono con fabietto fabietto mi proteggerà tanto sto facendo anche il download no peppe no no le flessioni merda adesso adesso ve le faccio ragazzi adesso ve le faccio dannati adesso mentre faccio download le faccio lo sapevo e tu non dire nulla però se lo sapevi posso cambiare aspetta posso cambiare un attimo ma non ti preoccupare ancora cazzo credo pink eeeh bacca sta impazzendo io potrei bianco e po e poi pink faccio le flessioni serluc come ah ah è vero che tu ti sei disconnesso ti sposto subito faccio le flessioni salve ma perché io mi sto chiedendo il perché ma io mi sto chiedendo perché devi fare riflessioni ah riccio fatto devi dire in chat I'm the impostor no non sono l'impostore come perché dovrei farlo perché dovrei fare perché devi fare le flessioni non sto capendo perché se tu metti se tu hai 1050 diamantazzi faccio 10 flessioni e mo le ho fatte allora le altre cose non ho visto che abbiamo buttato fuori che abbiamo buttato fuori nessuno ah nessuno abbiamo buttato fuori nessuno viva ma Lorenzo che ha deciso di fare lo shop però per sempre no sta facendo sta facendo dei sta facendo dei compiti non c'è sempre hosting 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 e lo so sta sempre me va bene lui non c'è sbatti di 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 registrare no no lui ha lui ha proprio la passione per lo streaming forse molta più di me essenzialmente lui non può in questo momento per per la scuola come io delle volte non posso per per l'università mi hanno dato un amico mi ha dato come dire un aiuto aspetta un attimo bianco è bianco ve lo dico da due round bianco è il bianco fica poi anche il pink io non so votate bianco e pink madonna puttana ciao Omar benvenuto in live madonna puttana è da mezz'ora che vi dico che è il bianco minchia basta cioè già faccio schifo nelle colma porca puttana finalmente poi se non è lui abbiamo perso però no no vuoi vedere che non è lui no l'ho visto che il loro e allora e va che cazzo metti su discord allora lei dov'è ecco Omar figa cotoletta Omar voglio uscire venire stasera in tua live va bene ok I'm back va bene cos'è ah oxygen l'altro è il pink 100-100 si è il pink non stava non stava facendo l'emergency ma c'è ancora i? cosa carissimo? c'è ancora i quello lì che indovinava semplicemente fissandoti negli o anzi fissandoti punto e basta no no quello non c'è vai no va via pink via pink via pink al massimo è nero si stai zitta ma pippo coca qualunquanta italian pizza pasta pizza pasta pizza pasta e mandolino time pizza e pasta mandolino time io mi ricordo io mi ricordo una volta quando giocavo da among us con un mio amico è arrivato un tizio che ha chiesto da dove venivavamo e gli ha risposto da pizza a pasta mamma mia pizza pasta e mandolino l'avevo indovinato in tutti e due ragazzi sono un detective fantastico ragazzi il codice lo avete visto su discord ci sono entrando adesso ok benissimo benissimo peppe tu sei su discord sono dentro ok peppe ci sei mi sono sono tornato a casa mi sono perso ah non ci sei perso tantissimo peppe tu sei dentro tanto figo peppe peppe vabbè peppe ragazzi ma lo sapete che siamo a eh aspetta un attimo sai che non mi ricordo siamo a 323 follow sono ma non è vero di osbrief non lo sei eh la velocità 1,25 quant'è la velocità aspetta un attimo che starto la velocità è ma si aumentiamo aumentiamo di un attimo bene bene dai andiamo e chi vinca lo stronzo migliore come dico sempre io sicuramente mi è sensato come farà salire in sto gioco chi è lo stronzo migliore stronzo migliore che vinca oh no oh no oh no che è successo mi ha già tolto le luci ok il light green è sussissimo perché sta facendo la tasca ma non si è alzata la tacca micro la prossima volta ti faccio il codice ti dico il codice ah ok niente fambietto è pulito ah merda allora è in gine adesso poi micro ti mando il codice subito te lo prometto cos'è ma non è è ossigeno si è ossigeno ora arrivo ah no perché perché io sono morto voi due allora pippo coca sei tu sei all'ascolto serluc scammone si serluc è un vero scammone micro siamo morti come delle merda naturalmente ragazzi sono mutato sono mutato come potete notare adesso pippo coca ha fatto una place della madonna secondo me poi non lo so allora ragazzi se volete sostenere il canale potete lasciare il follow punto esclamativo discord per entrare e giocare con noi abbiamo bisogno di giocatori dai ragazzi abbiamo bisogno di giocatori abbiamo bisogno di voi quindi chi state votando? dicono il giallo dicono il giallo ma il giallo non c'è io ho avuto il marrone perché ma come dicono il giallo io ho avuto il marrone perché ha sparato mille minchiate cioè è un po' una questione di principio no dai povero dai che cacchio chiamami come al solito sì sì scusami è solamente che io leggo dalla chat micro e quindi leggo micro red apps red apps o red sas niente siete state perderete avete stannato una votazione dai che i morti si mutino ora porca puttana troia cazzo per una volta che sbrifan l'ha beccato non trastano sbrifan santo iddio quanto verrebbe di bassacrarli addosso vabbè noi facciamo le task perché ragazzi l'unico modo per vincere a parte fare tutto beccarli è fare le task facciamo le task ragazzi comunque opzioni di servizio adesso voi vedete che se andate a vedere sul sulla parte dei comunque sotto il mio video ci sono tutti gli orari delle live e c'è scritto 5 su tutti gli orari allora io qualcosa lo tolgo perché a questo punto le live le faccio a seconda degli orari dell'università e sempre quasi ci saranno al mattino però l'orario l'orario è sempre molto vacillante quindi non so non lo so ci dica voglio ascoltare la vostra le vostre analisi io vediamo quello che andate a dire il marrone se muore il rosso what only for this io provo a votare il rosso i invisible confusion ah ma non sono non è morto nessuno no è solamente il marrone che ha detto se muoio il rosso va bene cioè io quasi lo voterei il marrone però meglio si pare va bene voi avete qualche opinione per la per la chat ma ha detto di tenerlo d'occhio non di votarlo adesso però ma era lui oddio avete beccato avete beccato il rosso sbriffani io ti amo perché quando usi il tuo cervello che tu sei una persona intelligente quindi il cervello lo sai usare becchi sempre l'impostore sempre ma guardate quanto è triste il mio robottino ragazzi ossigeno ragazzi ossigeno ragazzi ossigeno è fabiello è fabiello è fabiello merda è fabiello non sta facendo le task sicuramente lui ah comunque micro questo cioè questo è il codice merda è lui maremma 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 dai abbiamo quasi vinto di task abbiamo quasi vinto di task ragazzi dai 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 sbrigatevi abbiamo quasi vinto di task chi cazzo non sta facendo le task santo dio dai hanno feccato communication perché hanno feccato communication cos'è successo chi è morto morto il viola merda non ho visto vediamo qualche sospetto ragazzi quello che ho ammazzato vabbè non puoi dirlo non puoi dire chi ti ha ammazzato a quelli vivi ma siete morti tutti c'è la mano chi è morto e siamo morti tutti tranne te Omar c'è tonio andato tu sei andato shadow shadow c'è no non c'è cioè siete morti tutti voi quattro per le volte assassin certo puoi giocare teoricamente c'è posto c'è posto c'è posto teoricamente c'è posto c'è posto si teoricamente c'è posto abbiamo un botto di posti per ora per ora ragazzi per ora perchè hanno votato Sam what perchè hanno votato perchè hanno votato ma perchè l'ho visibilmente confuso in questo esatto momento anch'io ragazzi dovete finire questa task di communication avete vinto finite queste cazzo di task così andiamo avanti su 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 guarda manca un culo dai chi non fatemi inalberare su non siete depensanti siete persone intelligenti eh dimmi di chi no niente tranquillo il verde è là mi sembra in campo dai ragazzi finite finite questa task e avete vinto dai ragazzi a chi manca una task le task puttana troia è proprio una task manca ma perchè ha chiamato non lo so perchè ho paura che uccide quel cuore a te che ti ha ucciso scrive guarda chi mi ha ucciso l'avete già ucciso voi allora il prossimo game il prossimo game c'è micro e assassian assassisan 07 ci sono loro che devono entrare quindi aspettiamo un attimo e li faremo entrare avete ricevuto adesso spam come ma punto esclamativo discord per ah c'era uno qui che era abbandonato al suo destino vi rimando il codice dov'è il codice? mi l'ho mandato è sul chat generale carissimo e c'è anche sulla chat di twitch accidenti perchè ti hanno buttato fuori? ma perchè hai chiamato oh maga era al limite e non avevo altre idee che magari far buttare io via uno non avevo tant'idea era va bene dai almeno uno l'hai buttato via che eri tu ok ragazzi c'era il mio alleato che mi ha posto di fare tutto stava a corsa mi stava seguendo aspetta un attimo ma ci sono già tutti? io ho parole forse voleva no aspetta 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 chi ma ok Fabietto allora chi deve entrare ciao ok ciao carissimo ok allora manca manca assazian assazisan lì o è già dentro? 25 secondi di 25 secondi ti prego per carità di dio abbassa il kill dai te lo ammasso a 27,5 dai non lo so non arriva facciamo io sono scusami non ti vedevo arrivare pensavo che non fossi neanche scusami abbiamo startato la prossima ci sei te lo garantisco perché manca solamente un posto il tuo scusami ma oggi stamattina che è arrivato papa francesco a darci i bit ragazzi il nostro canale è approvato dal papa da caso non ridere no sono un imbecille aiuta vabbè ha fatto una roba scappa no ma scappa dall'elettrica scappa gambe levate scappa perché l'elettrica ha il cancro e l'elettrica a cazzo che kill che ha trovato il cadavere tv tv ha trovato il cadavere vediamo perché ha trovato il cadavere tv tu ci dici tutto tu ci direi ok è già un passo avanti quindi tu non sei ok so orange safe anis tornato sì è tornato e ci boosterà gli boosterà la partita vabbè i was in aspetta come si dice o due e tu puoi confermare scrivilo scrivilo grazie se no tu sei chi mi sa già sospettare di sottoscritto safe io voterei pink pink diventa strano però c'è anche il viola ha detto che il viola era lì vicino ma siete in 25 perché stanno parlando sono in due non è normale non lo so ma non è nulla è normale nella mia vita è nostra no no te lo garantisco la mia per me self report no rosa buono what ah vabbè io ho voto il viola wow speriamo che abbiano votato mezza e metà dai che sei il minimo noto se non quella se tutti hanno votato hanno niente tutti hanno 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 c'era il 3-3 o 4-4 in questo caso comunque ce l'avevo io un qualcosa di bello da fare posso fare lo scan guardami sono già lì allo scan però stai facendo una tasca ti guardo tutto tesoro si stai facendo ti guardo tutto tesoro ti tiro assoluto yes sono aspetta no ok ma per me mi si è già potuto disintegrare l'esistenza per qualche secondo ho cercato di fare il doppio passo mentre stai facendo i scan per farti cagare addosso ok non saranno che non trovate corpi ok baka sta fecando palesemente la task in in reactor vuoi essere nominato a dire che riesco a fare il coso della carta della swipe card a primo tentativo io ce la faccio ma sta cosa non è normale cioè siamo gli unici tre che parlano gli altri tre sono entrati su discord per non fare niente però sta giocando un altro gioco no tonio sta giocando un altro gioco aveva bisogno solamente di farci di fare compagnia aveva bisogno di compagnia e amore c'è qualcun altro su discord gli altri non lo so shadow può entrare con noi e con noi sta giocando però posso rossentirci non può parlare ragazzi fossi in V io in electrical non ci andrei fossi in V guarda ragazzi io vento per andare in electrical e risolvere la ho un'altra tasca visuale che bello sono davvero ineluttabile ah oh ma io sono Iron Man dai dai self report non può trovarli sempre lei i cadaveri dai è una volta che le trovo numero uno numero due no ma dai ma tanto non sarà where questo scrive come una cosa come una cosa perché il gatto del vicino viene a rompere i coglioni al robot dal giardinaggio che ho porca puttana mi picchi il robot che cazzo e non sto scherzando mi picchi il robot mi picchi scendi scendi a casa sua e dici che cosa fai sto tipo cagando tu gli dici no non puoi ripagami no no al marrone raga il marrone è metà perché io sono passato lì davanti e cioè da notare come c'è arrivato il bianco di lì non lo so io continuo cioè non è possibile che due sono morte vabbè uno si è disconnesso sono morte solamente due persone e due persone la beccate è sempre tv dai minchia ci siamo stallati porca puttana 3222 3222 io non ho la parola 3222 3 per 8 triplo 8 ma ragazzi vi ricordo che potete usare la soundboard se funziona ragazzi o c'è un solo impostore ragazzi io sto no no ce ne sono due di impostori oppure mi si è baggato ci sono ancora quindi si è baggato sono visibilmente molto più confuso ok io mi do già tutte le tasche devo andare a vedere una roba lo sentiamo anche qualcosa devo andare a capire una roba ok 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 qui ci sei tu qui è tutto ok di un altro ok no qui ho visto una tele tra le tasportarsi ma che fosse Goku io continuo a fissarti vuoi vedere un po' l'elettrica devi dire ok tra ti sei dimenticato di dire ok aspetta I have a plan I have a fucking plan si chiama piano del suicidio andai in elettrica no è un po' meglio visto poi di quello che tu intendi qui è tutto ok vado a vedere sopra la botola e far finta di essere spider no ho un altro pieno ancora la cosa più strana che mi viene in mente aspetta lo sa porca puttana troia lì c'ho secondo me sto a vestemmiando tantissimo pinche marrone no ma da cosa l'hai capito perché stiamo seguendo io sto guardando la oh dio mio ragazzi allora no 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 scusatemi scusatemi io sono veramente sono veramente no 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 mi muto che è meglio mi muto porca puttana li sta sempre trovando il pink per me è il bianco che uccide e il pink che ne porta per me cioè la go la rogna mi sta salendo la rogna cazzo c'è il bianco e il marrone questo è certo non serve neanche che arrivi il riccio a sfidare di mieve oh chi te l'ha detto allora omar stavo seguendo finalmente sta usando il cervello però perché è il bianco il marrone non è te l'hanno consigliato oppure l'hai capito da solo vabbè il riccio sta da quasi mezza partita che sono sospetti il riccio sta sclerando in live certo che il riccio sta sclerando in live poi adesso secondo me aspetta il secondo me che sei a bursi no riccio secondo me adesso il riccio no il riccio secondo me mi arrendo sta gente di merda hanno bloccato di nuovo un impostore ma nel tuo universo c'è l'ebrale perchè secondo me il riccio è stato ricattato il suo vicino che adesso ci spoglio prima è te stesso sbuttone stessa merda vediamo chi devo sgozzare a fine di questa partita no fra basta che lì insulti tutti parenti la l'agognatù dove cazzo è la pistola voglio spararmi dai Omar non mi puoi sentire perchè sono morto beccalo mi chiamano è il bianco è il bianco vota il bianco ma avete perso 10.000 euro poi non ho smettuto no io non ho rifiuto mi sono ottenuto i maroni non è possibile tipo le decine dai il telefono alla prof e inizia anche a fare pubblicità c'è davvero successo due volte di fila che io ero a scuola le 10 del mattino mi sono scordata la canzoneria e in mezzo di una lezione se non è sbrifano se non è sbrifano hanno perso ma ti immagini potrò andare alla prof pink 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 poi a fine live vorrei parlarti perchè si perchè si perchè sto sbagliando non è che stai sbagliando ragazzi io ve li ho già detti tutti quando ero in vita chi erano dovete ragionarci cazzo mi sta venendo l'angogna venervi io ci sto un po' godendo si fai bene mi piacciono queste situazioni perchè succedono anche a me e fra tu ti consiglio di non far come me perchè è troppo lì inizio il bianco si sta creando un macello il bianco il rosa tutti accusa un altro così facciamo anche la batteria adesso io non so adesso vedresti messaggi io non capisco se i sta dicendo la verità oppure l'impostore sennò venendo mille dubbi se sono no non posso parlare scusate sono nato no ragazzi dai per favore non trollate io chi sono? ma dove sono i miei genitori? io chi sono? cosa ci fai? non so chi votare sono confuso se tu voti sbagliato se tu fai qualcosa di sbagliato adesso dopo il riccio ti ammazza ti viene a casa e ti fa un riccio vabbè io ho l'ho col bianco 3 2 ecco che dice si sta preparando la macchina la macchina per investirmi aggiungerei ci voleva tanto ci voleva tanto il bianco non l'ho visto tutta la partita non chissavo forse ce l'avevo l'avevo allora porca puttana porca di quella puttana chi deve entrare in live entra ora se no io starto subito quando vedo 10 eh giuro mi sta venendo la gogna la gogna mi sta venendo chi manca io sono entrato spegne la luce chiude la porta chiude la porta ti mangia un moto i miei cervelli metti una sola common task non mettine una una mettine in 5 5 per farlo scelerare 5 perché è stato il signore se no è ingiocabile per impostore che all'improvviso no al massimo i due metto tutto due metto tu common task metti una bravo una 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 10 mila secondi metti kick con 10 mila secondi quello va bene ancora con un video aspetta chi è chi doveva entrare ragazzi nessuno no nessuno nessuno puoi avviare dai metto pubblica allora ragazzi è ora di pubblicizzare la live agli amici infatti io sponsorizzo questo sito si chiama bibibibi lo so cos'è bibibidi lo uso non è che lo uso anch'io da quando avevo 15 anni sito giallo nero no 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 sei troppo piccolo sei troppo piccolo sei troppo piccolo per certe cose no 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 per fare una squadra è bellissimo di fare con la squadra addio santo è lui l'impostore non sta parlando che pale no non sto parlando perché mi sta venendo un mal di testa assurdo allora ragazzi sì il pink è safe perché ha fatto davanti a me il pink allora ascoltatemi il pink è safe perché ha fatto davanti a me l'analizzatore lì il marrone non è safe per te perché sta faicando tutte le cose davanti a me chi? chi è che sta faicando tutto? dove è morto? chi è morto? come? dove? quando? dove? sì sì secondo me è un electrical perché ero con lui in quel momento e poi sono ok electrical chi c'era lì? ok io ero in security stavo uscendo da security però non è Omar e il riccio no perché io stavo uscendo da security ma c'era l'elettrica c'era l'elettrica grande il ricordatevi il pink è safe ok il pink è safe e il riccio no il pink è safe ha fatto l'analisi abbiamo visto il co fra dico a tutti di votarti o no? decisi no perché io confermo che il pink è safe e non sono io perché io stavo guardando dalle telecamere io schippo ok io ma perché cos'è che stanno a dire? c'è che stai dicendo pink è safe ma tutti ma tutti lo stanno dicendo che il pink è safe perché tutti l'abbiamo visto l'ho visto io l'ha visto anche il giallo che era safe che è entrato io sono il bianco ho detto solo confermo il riccio nelle telecamere certo mi hai visto shadow? comunque ora io direi di dare un occhio al riccio ma potete darmi anche 10.000 occhi ma io non sono io c'ho 4 sospetti io c'ho 4 sospetti se non sto dicendo che sei tu pure il shadow sta dire che sei tu dalle telecamere confermo il riccio nelle telecamere ero io nelle telecamere c'ero io nelle telecamere shadow mi ha visto in telecamere posso dire un attimo i miei sospetti è uscito una naca naca cata ne è uscito una cacata grazie per il follow però io vorrei sapere perché nessuno sta mettendo a posto luci eh tanto non è che ci uccidono nel buio c'è uno di stico e che sta sminchiando tutto non lo so oh si sono chiuse le porte in electrical secondo me io vi direi i miei sospetti il verde acqua il riccio il rosa e quello là il nero è morto qualcuno no però comunque questi sono i miei sospetti perché come vedo vi siete un po' spalleggiando no io il pink ti posso garantire che è safe ma è l'unico che ti posso garantire io ero da solo in telecamere lo so che sono sospetto ma anche io mi voterei però non sono io ve lo posso garantire comunque Omar io l'ho appena ucciso che cosa ho visto ho visto Robby ho visto no ho visto è il verde acqua vero orange l'ho visto uccidere dalle telecamere non ho ucciso che cosa stai dicendo non è vero non è vero ero dentro admin l'ha riportato di usbri fan io ero da tutta attapata io ero in asteroidi ciecato io l'ho visto dalle telecamere ero di lì io ho visto un certo arancione uccidere il pink io ero di lì c'è pure Shadow che può darmi ragione bro io bro io ero io ero in asteroidi io ero in asteroidi ti sei fatto uccidere io ero in asteroidi a fare asteroidi ti sei fatto uccidere ero in asteroidi ragazzi ero in asteroidi fra è vero ho visto non mentire ero in asteroidi giuro sbio ti ho visto dalle telecamere in modo chiarissimo amico non puoi smentirlo ho miscliccato volevo cliccare sabotaggio ho cliccato kill io sono la vergogna del mondo conosciuto è il bello che tu l'hai fatta al momento proprio in un istante che ho seguito la telecamera dio santo stavo scherzando sabotaggio per le luci e invece ho climi oddio sono un ma io stavo scherzando mi dispiace che ero in futuro come stavi scherzando non si scherza con queste cose no io ero serio io invece ero serissimo ma è ma troia ma è ma la puttana e poi dicicare il paese da sotto l'amico qualcuno viene a vedere che io faccio le visual no 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 devo scappare devo scappare devo scappare devo scappare shadow 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 grande lui che mi ha visto fare la tasca di tua comunque ti è morto dove è morto io vado a spruzzare il vicino ma gli do così tante botte che inizia a vomitare soldi ma cosa al vicino al vicino frate sta facendo una moto in casa no per me per me no è vero sono morto fra non guardare comunque la chat per quello che scrive no voi che cosa pensate chi sia il saian era troppo sospetto signor lini si mi seguiva chi scusa l'azzurro ah aspetta che black safe finalmente si 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 vediamo un po' si si va a dormire ma comunque avevo sparato a casa io avevo fatto il ragionamento di riccio a caso io lo sapevo che era lui lo sapete il perché quindi tu non mi hai visto fra io non ti ho visto non ho visto niente io ero in elettrica ma non hai sentito io che sbrettavo contro di lui che ho palesemente visto uccidere si ma io l'avevo già volta io avevo già detto che era lui da prima ho detto adesso devo dire che è il riccio e devo continuare a sostenere qui anche dice che il riccio anche se non lo è ma perché sei come tafuro perché vi attacca queste malattie non è una persona sana chi è tafuro tafuro è il mio compagno streamer il mio chiamiamolo mentore ma chi è questo? è il bot se voi schiacciate st poi puntino avete il bot con cui fate cose cose? si potete scrivere tutto quello che volete il bot lo dice però io l'ho mutato perché di solito i miei amici ci scrivono le cose naziste quindi no perché io sono contro i totalitarismi del 45 in realtà ha un miliardo di vestiti oh ho i weapons ho i weapons qualcuno venga a guardarmi posso farlo anche io ok ti vengo a guardare io bravo Omar bravo un attimo entro nella botola un attimo che entro nella botola e vengo a guardarti bravo complimenti cazzo grazie dai ho finito Omar si che lo guardo guardami stai guardando io si sto guardando sto guardando fra è il blu è il blu è il blu no non è il blu ok ok perchè c'è un td vabbè eh dio dove l'hai shine again è il blu wow da cazzo non lo sai grazie mille blu ti voglio bene ti voglio bene ma che sto dico sto dico ragazzi giuro se buttate fuori Omar giuro su dio che vi vanno tutti da discord se osate votarlo vi butto tutti fuori da discord che io vuoi l'attestation della serie hai già hai già grazie per il follow carissimo bellissimo anche il nome spero godo come ah non lo so come fai a godere me lo devi dire tu e poi ma invece se fosse gioco e hai sbagliato a scrivere giochi godo come un riccio ah godo come un riccio oh ci sono persone che ti ammela veramente davvero 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 se sono davvero fidate di lui siamo seri si meno male che il nero non mi ha votato se no ero già morto sono io fra sono io il nero ma che c***o ma che c***o mi sei buggato lo schermo ah no per qualche secondo mi si era buggato lo schermo ma io oh merda vabbè adesso tipo è morto il riccio no 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 ancora no io sono vivissimo vivissimo e sexissimo vivissimo e sexissimo e levissimo raga io dico di votare il blu e poi voto un altro ma come che hai sette specche e manca e manca uno che scrive eh mi dispiace perché stanno tutti giocando con me ragazzi mancano cinque follower siamo già a 300 a 330 sto piangendo c***o stiamo facendo un botto di follower in questi in questi giorni tipo quando arrivi a 299 e mi scrivo mi scrivo mi scrivo mi scrivo tu stai scherzando ma a a 199 tafuro me l'ha fatto questa cosa ma perché l'hanno già fatta altre persone non conosco neanche chi è tafuro tafuro è un grandissimo streamer che sta arrivando ai 700 follow però ora è bloccato dalla scuola e quindi non può streamare lui streama da un anno in confronto a me io streamo da tre mesi e mezzo se contiamo proprio il tempo di streaming come è possibile non ho capito un c***o non ho capito io un c***o non ho capito io chi mi ha ucciso non ho capito io come c***o vate a capirlo voi raga non so chi è quello che scrive blue eh assazian ah non lo so sei tu no ragazzi c'è l'azzurro che continuava a seguirmi tutto il fottuto tempo quando ero quando ero in mad saia bello shadow veramente eh se grazie a te ti dico grazie grazie mille se arrivi se arrivi a 5 se arriviamo a 5 hai il vip teoricamente dovresti avvisami quando arrivi teoricamente quelli che mandi tu dovrebbero scrivere mi manda tipo shadow così io li conto e così ti metto il vip poi a 5 ricordo a 5 amici che portate che lasciano il follow e il vip tranne il voto questo voto ok se l'azzurro non è l'impostore l'azzurro è un imbecille non è vero non insultare non si fa né body shaming né mental shaming infatti cattivo cattivo bambino bravo cattivo sei stupido allora se lui mi stava a seguire e non è l'impostore è una strana persona no non è una strana persona è uno stalker è uno stalker sbriefan ti amiamo just please io non lo soffocare nell'ossigeno eh fa ridere perché si può fare io non no no puntano a troia cioè io non 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 stai capendo ti stai triggerando io sto io sto piangendo io sto piangendo uno coglione più dell'altro uno che non sa neanche chi l'ha ucciso che bella roba io vedo sei morto ma non vedo chi sì perché stavo allora voi non sapete ma io sono molto no sono molto cazzo stavo finendo la tasca sono molto disordinato qua ho la un gioco di Optimus Prime poi qui ho un ho cinque lego giganti di Star Wars di qua ho perché ho un Beyblade sulla scrivania poi qua c'ho il mio mazzo da torneo di Yu-Gi-Oh c'ho un botto di robe e mi distraggo facilmente c'ho anche il mio controller delle di Dark Souls ma perché lega in nero continua a scrivere blu a caso? non lo so se quello che sta piantassi mi trova anche un favore più che altro è votare quel dannato azzurro dannazione ma il problema lo sai cosa fa lui? lui dice di votare te ma poi schifta è vero vediamo un bel pollo Assasian è un mio follow comunque e non da tipo due giorni fa io lo sono da abbastanza due settimane ragazzi il mio primo follow è stato una donna di 35 anni chiamata Patatalezza del Tofu è spoiler è spoiler era alla fine un bot però adesso fossi in te che brutto inizio no? avete scammato di nuovo no 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 passendo intellettivo meno zero dai ragazzi cazzo è la terza live che finiamo ogni partita col col codolo ma santo dio santo dio ma chi è un altro che hanno votato due? io ho recato no no davvero che è stato? che altro hanno votato questi vesti? madonna mi vorrebbe di insultarli tutti però non lo voglio fare ok ragazzi mettiamo ancora la dio sguardo ma questa volta non mi schifo anche Ivi lo sta urlando cazzo Ivi sparerebbe nel cervello cazzo siamo urlati da mezz'ora sia io che il genio guarda che io non so se fare incazzare Omar oppure no non farlo incazzare non farlo incazzare perché sennò mi incazzo io cazzo giuro lo so che siete fidanzati lo so lo so no io sono fidanzato con Tafuro non con Omar Omar è solamente l'amante segreto non ridere non c'è da ridere però viene automatico comunque ragazzi noi sosteniamo il corteo LGBT non veni niente denunzia e querela vediamo chi votano se adesso votano me madonna santa cosa faccio cosa faccio c'è le persone che mi votano ok vediamo vediamo eh se c'è uno stallo viene buttato fuori qualcuno che non è possibile io non ci credo io non ci credo non è possibile come fate a non vincere senza di me non vincete Cristo Dio l'avevo santo Dio santo Dio santo Dio santo Dio Lugozzi Lugozzi ma perché sto dicendo Lugozzi tutta colpa di Lugozzi ragazzi aspetta mi state che sono per riempire la chat no no non ti preoccupare ciao Zama benvenuto in live no io giuro che a io coltello qualcuno a coltello qualcuno comunque rega scusami o amaro giuro che non l'ho fatta apposta l'ho scritto solo dieci volte se non vedi più secondo me secondo me lui adesso è X sulla moto a fare arrivo io non ci credo no no io mi rifiuto di credere sta merda no no io non mi rifiuto adesso voglio vedere chi buttano fuori se buttano fuori se buttano fuori io non mi rifiuto se buttano fuori se buttano fuori che è il bianco oh no posso vestemmiare in chat no puoi anche dirlo in chat vocale tanto le vestemmie sono free raga cremate il pulsante votiamo con l'altra che cosa è stata roghiata ci sono due impostori due impostori che non stanno killando perché l'altro allora 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 metagame perché tanto siamo tutti morti è il rosso una prossima live con taffuro quando taffuro finirà i compiti no rosso 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 ti prego convincili convincili solo mamma mia allora sazian io giuro su dio che sei il terzo assassino però cma sta continuando a schippare quindi l'assassino di lo sbrifo mi ha ucciso davanti a voi e non lo state uccidendo davanti a voi lo sai perché non lo uccido perché no aspetta per qualche seconda è apparso tafuro per qualche no tafuro no torna qui tafuro è apparso tafuro no comunque la certa è piena di bestegni mie ormai la certa del coso ormai ma ragazzi lo devi uccidere lo devi uccidere tafuro ciao 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 no no finalmente è tornato tafuro hai visto quanti fanno ho fatto tafuro rosso vota il verde rosso come c'è tafuro il nostro eroe comunque no se votano il rosso caccio un urlo te la no io spacco giuro che lancio qualcosa contro il muro fra inizio a lanciare io picchio il muro e le riempie di bestie c'è se votano se buttano fuori rosso questa è la statui questa è la statua di otti optimus prime del cartone del 2007 è già contro il muro è già contro il cazzo di muro secondo me ne ha viste tante quella statua è già contro il muro 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 signor fede inizia lanciare inizia lanciare in realtà sono sparito per tutto 30 minuti no l'ho lanciato non credo che cazzo fa non è possibile non è possibile sono dei bot come? è bellissimo è bellissimo io 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 sono io bacca brutto coglione ah ma figa ma di oh mi faccio entrare però scusi vuoi qualcuno inter name faccio kick se è entrato tafuro allora butto fuori cacciettina entra 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 c'è un posto da privato è già privato mi dice could not find the game you're looking for crfb ff avevo già capito ma sono scena l'ha detto gian e in chat anche ragazzi congratulazioni di averlo detto dice live il codice entrare ti ricordi che cacchio no allora questo affetto vede fede io in realtà sono sparito perché ti sbroccavo in faccia perché cosa è successo appena ho finito la quarantena e io volevo morire cazzo ridi cazzo io non ho parlato con nessuno per tre giorni con nessuno ho usato il telefono solo per la scuola devo avere le palle di ferro in queste situazioni le palle di ferro dai ragazzi anche in chat chi vuole entrare il punto esclamativo discord il follo e si vola il rosso si sta il rosso si sta arrabbiando con me ha ragione ma ci siamo entrati io mi stai arrabbiando in generale con tutti trani morti che erano già morti comunque il mio scherzo della paletta bellissima sa che io sapevo che i tuoi il verdacqua ma comunque volevo uccidere gli altri perché volevo essere il terzo impostore volevo essere un po in che si chiama furo entri e aspetta non lo sapete di tipo prima ho avuto il riccio fatto anche se è morto da solo poi ho buttato fuori omar poi ho buttato fuori il rosso aspetta un attimo chi sta parlando ma ma che sta per scusate devo calmarmi adri pro 5 4 6 grazie per il follo benvenuto il verde scuro dice di ma c'è qualcuno che sta lagando nella sessione che non mi fa entrare perché mi dice c'è un posto per me certo che c'è punto esclamativo disco se vuoi parlare con noi siamo in un'altra sessione creiamo un'altra sessione sicuri si è poi di il codice ad alta voce creiamo un'altra sessione sì infatti mimo me l'ha detto non vuole parlare allora che è un'altra sessione mafia droga io mi dissocio da questa mi dissocio mi dissocio mi sto dissociando davanti a un pubblico ok eccoci altri quando sei in una delle allora quando sei in una di queste chat mettiti il dito in cuore ma cazzo ma mi ha non mi fa creare non mi fa creare un'altra sessione non mi fa creare una sessione what the fuck che gioco di merda quando fa così è stato disconnesso del server amico devi aspettare un paio di minuti ma non puoi neanche unirade non puoi neanche fare niente adesso devi aspettare che ti ricollegarsi di qualcosa grazie a dio grazie a dio adesso arriva il codice ragazzi allora il codice ve lo scrivo nella chat generale di discord guardatelo entrate che cacchio di cosa perché ci sono non ho sbagliato scusatemi appunto c'erano più le stelle del normale giusto un po troppo eccolo qua vi mando anche l'invito ecco qui vi mando anche l'invito entrate fede sto per rendere la tua live un pozzo di cristianità mi dice invalido un attimo ma lo sai che stamattina è arrivato uno di nome papa francesco e mi ha donato un sacco di beat si riguardate quel pezzo di live lo voglio nel montaggio aspetta un attimo che lo smeto dio porco 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 dio ci siamo tutti ragazzi dai entrate entrate ragazzi entrate ma il codice l'ho messo su discord il codice k.i.m y.w. santo iddio lo urro tanto cazzo io faccio tutti i modi per fare le cose fatte bene no non posso perché c'è qualche cazzone che non capisce ciao aiuto non mi fai entrare allora sei tu che sei stupido mi dispiace ma sei tu che sei stupido no non sto ridendo per te Tafuro porca puttana troia stai ridendo per me ma stai ridendo per le bestemmie che ci sono io metto pubblica vaffanculo partiamo no 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 sei fermo non sono entrato entrate ragazzi entrate ah il codice qual'è è k.i.m.y.w. l'ho scritto anche su discord ragazzi due snowblood salve salve benvenuto no ragazzi cosa avete fatto cosa avete fatto no porco dio 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 ci siamo siamo arrivati tutti ragazzi che fate bello bordello si snowblad facciamo un bordello e cerchiamo di arrivare ai tre ai 330 follow ai 400 teoricamente ce la facciamo noi ha leftato no non ha leftato dai ragazzi santo dio pubblica pubblica grazie per il follo dai uno deve entrare ne manca uno vede da furo ora nell'avviare il bot ragazzi 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 sapete lo streamer che mi ha fatto iniziare a streamare che è una brava persona un po ritardata vaffanculo ah pensavo ti riferisci al tuo trucco ragazzi che fa di entrare di nuovo il bot no no ma basta che stai mi faccio arrivare la prima ma proprio dai ma porca puttana troia qualcuno ha fatto una doppia di eh no ok raga mi hanno ucciso bella lì grande shadow non lo dovresti dire non devi dirlo dai ragazzi ok va bene la sarcastica la sarcastica l'ho visto proprio di lì davanti che non è venuta in vita eh oh eh mi dica allora sono due rossi sono due rossi eccomi che ho trovato non so che due rossi basta non so che due rossi basta però in security ok security va bene schifiamo in security come security eh sì allora che io direi di votare la ragione uno dei rossi oh ma che cazzo è stato Ragazzi, se mi votate vi uccido perché vorrei giocare un pochettino. Adesso io direi no. Allora, se Azazian mi vota così a caso, senza nulla, io direi che... Cioè, puzza. Però io direi di schippare. Ok, votiamo Azazian. No, io non ho votato nessuno. Schippiamo, schippiamo, schippiamo. Io, io, io porco ragazzi, dobbiamo schippare. No, aspetta, se capiamo dove è il corpo, forse io posso indovinare un assassino. Questa è una cosa che la gente non vuole capire. Ragazzi, il mio follo è stato chiaro. Era in security. Ok, uccidiamo il follo. No, il follo no, non è self report. Per me non è self report. Che cazzo state facendo sul mio canale? Sul mio cazzo di canale. E tu dai, tu hai smutta la mia cazzo, ma chi è che la mamma? Assolutamente sentiresti le patatelle. Madonna, porca, madonna, porca, madonna, porca, madonna. Miutto! No, ragazzi, non dovete per forza mutarvi. Possiamo fare come avessimo delle radioline, quindi possiamo anche chiacchierare. Ok, ragazzi, secondo me è il riccio. Ragazzi, secondo me, qualcuno qui è un infame. E per me che io non ho capito, non è il cadavere, non è il cadavere, non è il cadavere, non è il cadavere, non è il cadavere. Ha detto in security, ragazzi, con un piccolo, allora, con ordine, allora, facciamo un riassuntone per tutti. C'era un hacker che ha cambiato il colore, però gli hacker col cambio colore crashano subito. Quindi è crashato e poi è morto l'altro rosso. Comunque, forse io stavo anche chi ha l'impostore, uno, almeno uno dei due. Forse. L'hanno avuto. Ovvero quello di prima, nel telefono, per me. Perché? No, ora dimmi, ora dimmelo, perché? Perché praticamente quando io, tu mi hai visto che, dalle telecamere, giusto? Hai visto che c'erano le telecamere accese? L'ultima, come? Io, no, aspetta, io ero in admin, passo per il corridoio di storage, vedo che le luci le hanno fatte, ora hanno sabotato, non si vede più niente, hanno sabotato le luci, vado di sopra, vedo il verde scuro, se non sbaglio, qualcuno del genere, entro in security, di nuovo, di nuovo il corpo bianco in security, presto potete riportare a Roma. Ok, era proprio all'ingresso di storage, vicino a dove c'è la tannica di benzina, e quello che è passato di fianco a me mi sembrava fosse nero, perché era buio e non vedevo. Ah, e raga, ho trovato anche il bianco, cioè, oddio, l'ho visto, però non l'ho riportato su... Ma dove è il bot? GENTE BOT! Ma dove è il bot? GENTE BOT! Prego, ormai è più che una chat, più che c'è, più che c'è, più inerogli, è stato il chat dovrebbe estermiare, da nassù. È vero. No, Tafuro, non si può scrivere! E poi la GACOME, no, Tafuro, no, 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 no. Non scrivete! Cristo, Dio, perché se... Allora, mi sembrava il nero. Ok, allora ragazzi, era un colore scuro, io voterei, io voterei, io voterei... Io, io penso che sia stato, che io, che io penso che sia un purple e black, io direi di votare black prima. Va bene. Aspetta, Shadow oppure c'è qualcun altro? No, perché io ho visto un colore scuro che mi piassava di fianco. Gli unici colori scuri che non sono neanche brillanti sono il marrone, il nero e il viola. Però il viola sono sicuro che non è perché il colore non era come viola. Perché Dio Swifan mi ha votato? Forse... Forse ho cannato, eh. No! Ho cannato, ho cannato, ho cannato. L'ho cannata tipo tantissimo. L'ho cannata tipo tantissimo. Ma era un colore scuro, ragazzi. Io ho l'ultima task qui e poi vado in navigation. No, basta, basta sabotare le luci. No, basta sabotare le luci. Le ho messi a posti. Non si vede niente. Non si vede sabotare le luci. No, rimetti. Non si vede niente. Ok. Perché? Raga, dai, rimettete il bot. Ci mani, vabbè. Ah, basta con me, bot! Just brief, non vorrei capire, ma hai in chat con noi? Sì. In chat vocale con noi? Sì. Sì. Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sei tu? Sì. Che sta parlando, ok. No, ragazzi, nessun insulto, ragazzi, nessun insulto fa di voi. No, non sto insultando. No, non insultando. No, non insultando, tu. Sai che caro, no? Io non sei insultando. Beh, il signor Volo lo conosco. Io. Allora, io, votiamo il marrone. Votiamo, votiamo il marrone. Oh, ma che cazzo vuoi? Non ho fatto niente. Non stai parlando? Sei silenzioso. Eh dai, basta. Sarà fatto un'altra piazza. Dai. È più divertente se io faccio così. Vabbè, ve lo dico, ve lo dico secondo me il viola. Viva il deuce. Viva il deuce. Ma io dico, uno buttato da voi. No, 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 no. Abbiamo vinto, io non ho fatto niente. Abbiamo vinto, io non ho fatto niente. C'era cinque. Sì, sono anche un zimpostore. Ha fatto quasi tutto il viola. Ha fatto tutto il viola. Oh, ma dai a vedere il viola. Il viola è il viola. Vedi, è da ascoltare il tuo cervello baccato del cazzo. Raga, il viola è ucciso davanti a tutti. Eh, io non ho fatto, io non ho fatto una chi... Ma aspetta, perché il viola ha il nome a tutti interrogativi? Non lo so, non lo so. Ho vinto da solo. È vero, è vero. No, io ero il terzo killer, io ero il terzo assassino. È vero, è vero. Non ne manco un po', il crewmate ero. Cioè, mi hanno ucciso letteralmente davanti a voi. Beh, bello, bello che ho due cadaveri su due che ho trovato, erano inseriti. Uno non l'aveva portato, uno l'aveva portato. Che paura ad attivare il bot. Ma lo faccio. L'ottimo io, dai. Ah, ok, no, 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 no. Non l'attivare. Non sta parlando più, non sta parlando più. Non fare più. Non lo neanche. Vabbè, ragazzi. No, volevo vedere, volevo vedere se... Il vero che adesso uno di qui dovrà rimanere e aspettare che il bot finisca di direttate con le vestibili. Per 10 minuti essere utilizzato. T'ha fuori, ma anche tu. Non mi sta a entrare. Ah, è vero. Non l'ho aspettato a me. Perché sta startando. Così? Maremma puttana troia. Scusi. Vabbè, ma è vero che uno che si chiama vive il Duce. No, 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 no. Dovete aspettarmi. È un ordine. Non è legale, penso. Ma comunque, raga, chi è? Cioè, il computer deve scrivere scusco, tipo... No, 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 no. Non mi rifiuto. Porca puttana. No, io lo silenzio, mi dispiace. Non sei buono. Non sei buono. Raga, io ero FK, io ero FK. Ok, allora, I se dice... Se fa una call, è giusto, vive... Ok, buttiamo fuori il bianco. Non è aspettato un attimo. No, aspettatemi un attimo. No, aspettatemi un attimo. Lui istante fa, è stato imposto un attimo. È vero, però. Io non posso entrare anche FK, quindi... No, ma io è fortissimo. Se per questo anch'io, però, almeno delle prove, cara. Teoricamente, lui muore sempre per primo, quindi io direi di killarlo. Non riesco a sentire a nessuno. Raga, fate parlare mo'. Mo'. Sapete che io, perché avevo scritto queste robe, perché c'era il viola che stava vendicando... Davo! Per questo è iniziato, sono andato su Discord, è iniziato a scrivere Skull Skull. Io, da ora in poi, non lo so, io non mi fido più del viola. È una cattiva persona. Raga, ma avete avviato! Avete avviato! Sì, quindi chi votiamo? Votete... Votete chi ha avviato? Riccio, vedete Riccio. Vedete Riccio. Avviato. Non ho scritto, non ho so che dire. Come ho usato tutti. Schifo. Sono quello che ha scritto, non ho capito niente e non... Non l'avete detto niente. Uuuuuh! GG per i guarda. Grazie a tutti. Poi vi vi ho il duce che volete impostare... Ma scusa! Ragazzi metti il bot subito. No! Ragazzi, basta! Ragazzi, io ho radio perché sta loco... Eh? Quindi vi dal duce era l'impostore? Sì. Terri l'impostore Sì bravo Allora ragazzi vi racconto Non so se proprio stamattina presto Eravate in live Ma vi posso garantire che c'era Uno che si chiamava Papa Francesco Che è entrato donando bit Me ne avevo donati tipo una ventina O una trentina E mi benediceva e ha tipo fatto Aveva fatto una preghiera In chat Lei non deve vestemmiare Dio la proteggerà in questo game E ogni volta che pregava diventava impostore Vai a riguardarsi la live Oh hanno chiuso in elettrica Quindi qualcuno sta laventando di sicuro La gente però Cioè io ho dei bannabili in live No in realtà nessuno ancora Prima che Aspetta Aspetta Dov'è andato lui? C'è un morto sicuramente in elettrica Non c'è nessuno Vieni vieni No 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 cazzo Io Sì sì Bravo bravo Guardami 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 Bravo tesoro Ora sai che sono safe L'ho visto anche io Ma all'ultimo secondo Io Io fossi in te Però mi Mi dissocierei da quello che stai visto Oh Oh Io mi dissocio da qualsiasi cosa Che state facendo voi No 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 Guardavo la live Ho visto che il signor Viva il giudice Ha scritto cose Non belle Io mi dissocio da qualsiasi Da qualsiasi cosa Però io Twitch io non posso controllare tutto Beh teoricamente sì E se tu metti le partite pubbliche È normale che ti entra sta gente Sì lo so Però sai Non ho sempre dieci persone E non posso giocare in sette o in sei Ma io ho finito le tasche Perché sto andando qui allora Sono un pazzo se vedi che entra uno posti dove dove uno sbirro infame perché scusa una di loro due per forza scusatemi scusatemi tantissimo cosa bello che eri cosa bello che ride c'è davvero uno che si chiama sbirro mi si era baggato discord bene non intendevo dire te prima io l'ho detto così ragazzi voi avete votato che ha mutato il rosso però a sto punto sei sus frate ma chi sbirro infame perché si è comportato in maniera sus quando io non volevo dire il suo nome però invece è andato subito sulla difensiva ragazzi finite le tasche ha ignorato il cadavere tu c'eri riccio tu c'eri l'hai visto con i tuoi fottutissimi io non ho visto un cazzo bravo bello non ho visto un cazzo che dobbiamo votare scusami sai l'azzurro poi se non è nessuno dei due e omar perchè non sta cosando bene mi va anche bene guarda terzo terzo ovviamente perché se davvero non è l'azzurro è orbo cioè naturalmente è orbo perché è passato sopra il cadaveri così quasi lo calpistava va bene taforo io posso far vedere un video di youtube no si se non è bannabile certo no non è bannabile è un video di un minuto di among us animato da dio che a me piace tantissimo mi fa ridere un botto a fine live ve lo faccio vedere perchè è troppo bello quel video allora però riccio sempre per quattro vinciano e non me non mi ricordo come si scrive in inglese ci si non ecco e non ho scritto così gli h i a n cosa ragazzi le ragazzi le task ragazzi merda le task io no raga io sono confuso no raga ma dov'è il bot no il bot non funziona tutti e due passati sopra no io non ho parole ahhh dove sei riccio non mi servi dove sei riccio ma in weapons sto ero 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 in ero in telecamere ero in che senso ora sono in reactor ed è ricco come quando è il colore del signor sbiro infame blu sei ti sto cercando è blu perché allora è lui perchè perchè prima sei andato subito sulle difensive ma ma scherzo e poi ti stavi agitando era stories oltre ciò ah ah lì va era il blu ok Hoy avete perchè l'hai fatto livare cazzo perchè ho uscito taffuro e fattori appare sera tanto sì era lui certo che era lui allievi vado oh sei un animale Ragazzi tutti quelli che vogliono sostenere il canale Lasciate un follow se volete donate qualcosa Punto esclamativo discord per Parlare con noi e per ciacciare e giocare Con noi Ma io l'ho detto a casa Dovete ascoltare la mia opera Sinti tutti Sinti tutti Eh ok Mi vedi? Ciao Fede No non ti vedo Ciao bello Ti scopo Vabbè Io non capisco la logica di questo tizio Non capisco la vostra logica Guarda carissimi Ho adesso il cagnolino sbrana a coglioni Oh no Quanto l'hai pagato? Il 2 euro Congratulazioni eh Ma più che altro deve sbranare Il tipo di questa gente Congratulazioni per aver speso 2 euro Per un cagnolino No non ti preoccupare Mi manca Eh no no tanto Ero nei tuoi soldi Non i miei Esatto No infatti Tu mi devi ancora 2 euro Perché ho ventato davanti a tutti Mi hai detto se lo facevo Sì ma io non pensavo che lo fossi Invece tu lo eri veramente Hai ventato Eh però mi hai promesso 2 euro Se ventavo davanti a tutti Con 2 euro ci compri i bambini No Zama Stai calmo I nostri tratti Ci devono rimanere segreti Ragazzi aspettate Zitti Ragazzi zitti Zitti Un po' culo Electrical Electrical Ragazzi ma voi contaviate Non avete ancora finito Abbiamo già finito Ne abbiamo già strattato un'altra Tu non ci sei Scusami No Ma come no Continuando a sommare Vieni fai lo sclusco Con il bot Ci credo No non fa più ridere È troppo bello sto bot Eh vabbè te lo metti c'è tu Poi te lo ascolti Non si può dire Ok via rosso No l'ho disattivato Come usate Come usate Wow Giuntano Dio Voi l'hack E sono i fan No prima il rosso Poi il blu Raga Prima il riccio Votiamo il riccio Tutti insieme E poi si vota la gente Ma perché vogliamo Si vota prima Perché dovete tiltare La partita ragazzi Ma non è divertente Perché non dovremmo Dimmi motivo È divertente Quando tilti Perché sei impostore E ti sgamo Altrimenti non è divertente No no È divertentissimo Anche se non sono impostore Porca roia No Quando sei impostore Invece tilti malissimo Quando ti accuso Ma tilti proprio male Tipo Sandro Sandro Sei un No Non lo posso dire Ho appena detto Che noi sosteniamo I contenuti LGBT Eh io non sono È vero Hai ragione Scusami Ma è veramente l'impostore Comunque il bianco lo avevo ucciso Cosa crania Costa crania Grazie per il follow Grazie per gli aculei Ma cagare Ma cagare va Ho detto in merda Io stavo guardando il cervello Spero vivamente che venga ucciso Ma tu che cos'è Che cosa hai detto di me quando non c'ero Adesso guarda che io mi vado a recuperare live Vai vai Che cosa hai detto di me Non ti preoccupare Davvero non ti preoccupare Io ho paura Lo stai vero Perché appunto Io l'ho usato Il consiglio Ma in messa Non perché non tanto da studiare Perché non volevo sentire nessuno Si raggiunge quel fottutissimo bottone Fuck A che ti serve? C'è Però Posso giocare Costa crania Certo che vuoi giocare Se vuoi parlare con noi Punto esclamativo discord Il codice te lo diamo Tu vuoi parlare con noi? No il putt esclamativo di discord Stai zitto Perché è lui No No Sì tutto tu Ok No 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 Aspetta un istante Scalmi tutti Io non capisco Io non capisco Vabbè Scendete Flame Urla Rana 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 Vai Vabbè Entri costa crania Entri in uno di questi E io la sposto No no ma voleva Voleva dire qualcosa Prima dieci euro in contanti Cioè voleva dire qualcosa Cosa volevi dire? Non so Sì Fuck Non ci credo Cosa volevi dire? Chi è che si è followato? God Alex Benvenuto in live Allora ragazzi In quanti siamo allora? Teoricamente In quanti siamo? Siamo Uno due tre Quattro cinque Sei sette Otto Siamo in otto Quindi Rishi mi senti Sì sì Eh Falli adesso Cosa? Oh no Facciamo i dieci piegamenti Va benissimo Interrotto prima Scusa non volevo Ah Danix Grazie per i busti In fronte lo vedo Dalla live No no Spera io vorrei capire Quante commenta ci sono Partimi scherzi Comunque ci sono Ma chi è che stava parlando? Non ho capito Non ho la chat di discord Questa Allora ragazzi Faccio una nuova lobby Faccio una nuova lobby A questo punto Perché? Mi spiega Ma il code come faccio? Non ho capito Il code è Adesso Su generale Lo riscrivo Ok Io sulla chat L'ho riscritto Chi vuole entrare Ce lo trascriva Mando anche l'invito L'invito quello bello Diamo un gas Fede Fede Eh È il chat Vero No A quante flessioni No 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 Ragazzi Non era una cosa da spammare No No Io se stanta flessioni Non le faccio No Col cazzo Che io faccio 70 flessioni Col cazzo Doveva essere Una cosa sporadica Paola Ti adoro Paola Paola Giuro su dio Che t'ammazzo Io ci ho messo Tanti punti miei 4.000 qualcosa 4.200 Va bene Facciamo le 70 e basta Adesso le faccio Perché sono uno streamer vero Che vuole arrivare in alto Da stasera Aumento il costo Mastardi Un attimo che vado ad abbonarmi 10 volte Perché lui non c'è Io non mi accingerei a dire cose bannabili Subito si stanca quel coglione Comunque a me non mi fa unire Non capisco Stacca Allora Come non ti fa unire Devi mettere Europa Ma che ti fa unire Ma che ti fa unire Allora Frate Devi essere Preparato mentalmente Perché in questa lobby Ci sono un botto di matti Stai esplodendo Aspetta cosa Ci sono Un botto di matti Uno che Ragazzi Ragazzi Muori live Questa persona Ci sono Questa persona Ragazzi Che nemmo la polizia Sbrinco Come dai basta Allora Me mancano 50 Eh muoviti Palle Allora Chi manca Che ho sentito Che ci sono dei problemi Chi manca Io manco Non mi fa entrare Chi gioca da telefono Sei su Europa Sì Rivolgo i miei punti Sai si scusa Zama sono un ciccione Non ci riesco Mi fanno male le braccia È da stamattina Che faccio flessioni Ragazzi Ti fai una bella tartaruga Ti fai la vanbraccio Il braccio L'arte superiore Adesso faccio le altre 50 Una persona soffrire Guarda Guarda Cosa gli ho scritto In chat Scammeri No Scammeri Adesso Cercate di aiutare Come ti chiami Scusa Ragazzi Gozzare Bulliggiamolo Bulliggiamolo Oh mi soffre Mi sono da entrare Me ne mancano 50 Adesso vado Allora Ehi là Soffri e stai zitto Maremma Quando si soffre si deve stare zitti Come questo bambino Che adesso bulliggeremo Come ti chiami Bambino che ha dei problemi Come ti chiami E che bambino che ha dei problemi Non lo so C'era uno Tipo che dicevo Che aveva dei problemi Non mi ricordo Se erano mentali O qualcosa del genere Siamo a 40 E hai riuscito a entrare? Vitto E fanne altre 10 Sì E hai riuscito a entrare? No No Non mi fa entrare Devo installare il giro Riccio Lo possiamo bullizzare? Riccio Lo possiamo bullizzare? No Non potete bullizzare nessuno Ragazzi Fatemi finire le flessioni Fatemi Allora Chi ci conosce? Allora Chi è quello? Un attimo ragazzi Un attimo Chi è? Godz Sei tu che non riesci a entrare? Sì Ok Un attimo Ti rimando il codice in chat privata Vediamo se così funziona Ti prendo a calci Vede Eh Vede Stavo dicendo No ma non mi sentrei nel Nel gioco Nella lobby Allora mi sa che devi proprio Reinstallare il gioco Ecco la cosa La già sta facendo Ok Cosa c'è No ma no No ma dai Canta Oddio Dopo te Dove poter pulizzare il furo Bravi andate avanti? Ah sì Sempre così Ma perché vitti Perché ti voglio bene Dai devo fare Alta 40 flessioni Riccio Dai un frattempo Dove andare Dove andare Dove andare Poi mi controllare Nel frattempo un po' Di flessioni Va bene E pulizzare No No Un'altra Di taccino Ora muo Guarda Ragazzi un attimo eh Aspetta Amico Allora Le altre ve le faccio La prossima volta Perché se no Non ci muoviamo più Abbiamo bisogno di tempi radiofonici Camericcio Ragazzi Le hanno vado a 3 10 Ragazzi Allora Meno segno qui Devo fare le altre 40 Va benissimo Ma adesso dobbiamo Dai Ti posso dire una cosa Discorrere europei A me non mi vanno A me non mi vanno Soltanto serve gli americani Solo gli serve Allora mi sa che ce l'hai Craccato No 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 Io non ce l'ho craccato Eh Dicono tutti Io ce l'ho Da press Ce l'ho scaricato Da press Quindi non dovrei avere problemi Fa una da fare Perché non ti vede più Fare le pressioni Bene Perché me ti riesce Per mettere Sto video su YouTube Devi tipo tagliare mezzo video No no Ma io lo metto Su YouTube Comunque Perché lo vuoi mettere Su YouTube Sto video Perché io Ricarico tutte le live Che stanno No io volevo montarselo Ah Ok va bene Tanto non è che mi devi montare 10 trilioni di live E la drema berg Paola non ti preoccupare tesoro Ti amo Ti amo Non ti preoccupare Sono stanco E non ragiono Adesso Fatemi prendere Fatemi prendere Cazzo Fatemi prendere un attimo d'aria E finisco le pressioni Stavo dicendo Fede Quindi io Gli avresti già Se tu non avresti rimandato Talmente tanto Da farmi prendere il covid E finire il lockdown Eh io ho pregato il giusto dio E ti è venuto il covid Tapuro Tapuro non parla Vabbè Tapuro se n'è andato La madonna Sono morti in tre Eh minchia No uno si è Se se n'è andato Hanno ucciso Oddio santo ragazzi Che stanchezza Ah Ah che stanchezza Ma che ore sono ragazzi Merda Sono le 16.50 Dopo questa Faccio le 40 pressioni E abbiamo finito la live Quindi chi vuole Allora Finita questa Finita questa Faccio le 40 pressioni mancanti E abbiamo finito E ci rivedremo stasera Con Dark Souls 3 E ci si salva con noi No merdo Ho sbagliato Allora ragazzi Questa sarà l'ultima partita Perché poi comunque Faccio le 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 flessioni Che devo fare E poi Chiudo Live Sniperando Federico E impostore Ma non è vero Sniperando Federico E impostore Votatemi allora Però non lo sono Vedi cosa cambia Che quando Che se tu fossi stato Davvero impostore Avresti tiltato Quando non lo sai davvero Non sei realistico Perché non tilti Ah è vero Scusami È questo che cercavo Di dirti Nell'altra live Quando è tiltato Invece perché eri davvero L'impostore Oh cazzo ragazzi Manca un follow Manca un follow E siamo a 330 Ragazzi Dai un follow Un follow Ragazzi Un follow E siamo a 330 Ragazzi Voi potete Rivaltare O riconfermare Il risultato No È totalmente Cannata È il Chain Kain Che è Kain Ah l'azzurro Magnifico Magnifico Via 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 Sta sta merda Via da sta merda Allora Allora Fint Ieri di Pescara Dio senza tetto Arrestato Perché non resta A casa Durante Il lockdown Madonna Ok Ok va bene Allora Mentre stiamo Ascoltando Tutte queste Vestemmie Facciamo le ultime 40 flessioni E abbiamo Finito la live Ahi Se tu mi stai sentendo In questo esatto Momento Il mio obiettivo Era uccidere Dall'inizio No Niente Vaffa Comunque Se tu In questo momento Ti stai sentendo Il mio obiettivo Era uccidere Dall'inizio Solamente Che non speravo Gioci a tutti In modo così Fluido Con una doppia kill Ok Magnifico proprio Eh Ok Il tizio Che ogni volta Mi scova Tutti gli impostori Praticamente Fissandoli Con il mezzo occhio Anzi col quarto Ne mancan Ne mancan 30 Ne mancan 30 Fratman Giustamente Bullizzato Ne mancan 30 Andiamo avanti Un po' ne mancano 20 ne mancano 20 no, non ci credo, hanno pittato Zama, vaffanculo, non so neanche fare le flessioni ma le faccio vai posso percepire la rabbia di i quanti i? troppi ho sentito un plink ho sentito un plink ho sentito un plink io vedo 0 giocatori nel coso ragazzi mi sei buggato ho sentito un plink si è followato qualcuno? ah, ok bastardo ragazzi manca uno ai 330 lasciate un follow e ne manca una serie da 10 metti i do di me per favore ma perché vi sento così passo? ah è vero ho abbassato lontano no ti avverò abbassato faccio un razzacqua ma ancora metti ah 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 ma poi frate ma molto ingestamente disintegrato dai dai fai palestra muoviti ecco il momento della bestemmia bestemmia drattico quasi mi dispiace oh quante te ne mancano? 10 muoviti dai dai ragazzi manca un follow ai 330 per favore qualcuno iscrive il proprio cane a questo canale lo faccio per voi e ah 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 basta basta addio ci vediamo stasera alle 9 30 con dark soul 3 buonasera buongiorno